signori oggi sono un barman volete un mojito volete che volete ditemi quello che volete io ve lo faccio oggi facciamo un attacco faremo un attacco un po particolare o mio dio si ho sentito un orgasmo incredibile allora allora ho un dubbio per me questi sono top io era quello che ho sempre desiderato un level up poi assaggiamo la shiny fox un altro dei miei gusti top 3 ve l'ho sempre detto buonissima sa di no di tè io per me è un tè al limone questa qua e odora di tè alla pesca sei un bastardo sei un bastardo che ho visto si fai bene a bere ma non è igienico sono troppo contento ragazzi sono troppo contento vi posso portare un sacco di nuovi contenuti madonna rega voi non cosa facciamo oggi oggi facciamo un attacco faremo un attacco un po particolare perché io sono infermabile no che caga sinceramente no non ci sto dammelo io sono ciccio che me l'ottantanove sono il capobranco dei miei pauri guardate se tante volte non ci riesco è ho sentito un orgasmo incredibile allora 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 ma che caga sinceramente no non ci sto mi dispiace non ci sto così non si può giocare prenderò provvedimenti assolutamente oh senti come spigne oh senti oh senti oh senti oh senti oh senti robbo oh senti oh senti porca no zitti zitti non vi dovete muovere fermo non ti muovere cristo dio imbecille sei un cretino sei mannaggia sinceramente no non ci sto mi dispiace non ci sto così non si può giocare prenderò provvedimenti assolutamente mannaggia checo che così io ti dico se checo però non mi devi fa incazzata perché la chat l'ha visto non ci aveva no non ci aveva visto tu hai incominciato a roteare con quella merda di personaggio bianco che ti ritrovi e gli hai attirato l'attenzione perché l'occhio ci ha visto si 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 cazzo si oh senti come spigne oh senti oh che cazzo senti oh senti robbo oh senti oh senti chiesa cosi se che robba oh senti altri però eh fai il serio simu eh tanto in calla uno due tre sei un bastardo sei un bastardo t'ho visto ti ho visto zitti zitti non vi dovete muovere fermo non ti muovere si mi dispiace non ci sto così non si può giocare prenderò provvedimenti assolutamente sei stronzo però eh ma che ma dove vai ritardato un porco cazzo poi dicono che me cazzo ma tu sei ritardato sei che cazzo di problemi hai ah non hai sentito bene no impazzisco perché a me mi sembrate ignoranti voi così credenti una persona viene salvata da medici che hanno studiato una vita tutte sveglie e dici grazie a dio ma infatti dio non ha bisogno delle nostre preghiere siamo noi che abbiamo bisogno di essere in comunione in unione con no porca puttana no 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 perché no scusa è grazie al medico che ha studiato che t'ha salvato la vita non c'entra niente il tuo dio in mezzo ma non hai capito infatti quando a me la gente adesso mi dice ma tu sprechi un botto di materiali ok mi fate capire come posso arrivare a diventare più bravo mi serve devo sprecare i materiali se no non capirò mai come funziona eh ma le sprechi i materiali ho capito ma io voglio crescere all'epoca io ero iniziato nel 2009 ero in ordine cronologico uno tra i primi e seriamente vi parlo di primi di quelli che adesso che vi dico la verità molti di quelli che hanno iniziato con me neanche sono ancora adesso e quelli che ci sono sono di base quelli che fanno parte del mio gruppo perché preghiamo tutti i residenti della prigione di recarsi nelle proprie celle pronti delirio eh delirio ragazzi non me ne frega niente eh no io voglio fare una cosa più figa ragazzi aspettate sei un bastardo sei un bastardo t'ho visto l'ho fatto ti ho visto a few moments later infatti rimarrai penso la per un botto di tempo come minimo 15 minutes later ma non pensavo ma non pensavo non pensavo non pensavo raga ma che c***o raga hai veramente rotto il c***o e poi mi fai anche le scuse ma baffan è andata via la corrente esatto no com'è com'è che si dice no ciccio cosa caramba da dove oh wow posso dire wow anche se è un'esclamazione molto da film tipo wow stiamo troppo contento ragazzi sono troppo contento vi posso portare un sacco di nuovi contenuti madonna raga voi non bellissimo voi non capite ma ci siamo ci sono in ed non in si 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 su Wow Wow Posso dire wow Anche se è un'esclamazione molto da film Tipo wow Che cazzo è successo Allora 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 Madò che caga Si Mo vi spiego Mo vi spiego raga Let's go Let's go Let's go Ma le la No 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 ma non è possibile No 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 questa è una trappola zio Questa è una trappola zio No 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 Ti devo dire No no questa è una trappola Ti devo dire Che cazzo è successo Sei un bastardo Sei un bastardo Che ho visto Una matata ragazzi Ben ritrovati dal vostro Vincere che me lo 89 Zitti zitti non voglio sentire Zitti Eh simpatica la cosa Però non mi devi rompere scatole Mentre io sto tryhardando Su Clash Royale Dai che Cristo Dio Che schifo Sarma Allora 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 Che cazzo Calcolate che stiamo a trema Tutti siamo tutti Un po' cagano in mano No 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 Il 5 settembre devi andare a votare per il partito comunista, ho sbagliato, devi votare per noi. Se andiamo a pagina 23, ho donato 3 euro e non mi cagli di striscio, perché a me che mi doni 3 euro non mi prega mica un cazzo, sia chiaro. Wow. Ho sentito un orgasmo incredibile. Hai il telefono in tasca? Possiamo risolvere subito. Non hai più il telefono in tasca. E' tutti dei cazzo di buonisti. C'è una roba pazzesca. Tutti i paladini della giustizia? Tutti i paladini della giustizia? Ah! Che cazzo è successo? No adesso mi dovete spiegare cosa cazzo è successo Stiamo bevendo la coca cola Quando al minuto 4 e 20 Vedo lo Slenderman Sputo la coca cola su tutto il monitor Dalla paura La lattina si accartoccia Come un foglio Di un compito di mate usata Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo No c-